cari amici benvenuti sulla nuova puntata di facebook time 3 allora poti provvenso che cosa c'era nella sala non posso far vedere perchè è un casino e vi dirò nelle sale in queste sale in queste sale potete trovare potessi scambiare fra amici e comprare ora andiamo su single play vedete è figa la mia schiena ok questo è un vero ehm rimangio tutto quello che ho detto play a card mi sono fatto una cazzata nera ok per ora sta andando tutto liscio ok lo scopo quel gioco qual'è wiii vabbè quello stampo non l'ho mai visto nella mia vita allora il gioco che consiste consiste di arrivare più all'interno possibile se vedete questo video sto facendo un casino se riesco a fare un po' se ho anche un po' di tempo perchè mi sono distratto cazzo cazzo sto scalando una torta ehm guarda vediamo un po' il giochetti no non guarda se non c'ho ehm no 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 ok allora come vedete cercherò di fanculo combo cercherò di fanculo parte alice ok ragazzi ma io come andiamo a fare shopping questo è il mio texport puoi fare shopping con il mio personaggio non l'ho bisogna fare shopping a vedere bene però vi dirò già una premessa vedete cattivissime 2 oggi o domani cercherò di fare il video di tutti i film cattivissime 2 così voi ve lo gustate senza andare nei cattivissime sit a cercarlo completo il film io non ci sarò eh ciao comunque questo è il mio texport ti salutiamo ciao 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 Oh!